Oggi parliamo di calcio con un personaggio conosciuto non solo nel territorio canavesano, ma anche a livello nazionale e internazionale, Dario Di Ghera, allenatore, anche se ancora molto giovane d'età, però ormai di lungo corso. Con te facciamo una chiacchierata a 360 gradi su quello che è il mondo dello sport, in particolare il mondo del calcio che conosci molto bene. Dario, per chi però non ti conosce, raccontaci un po' delle tue esperienze. Tu nasci calciatore appunto sul territorio canavesano, poi il prodo alle giovanili della Juventus, e di lì una carriera che ti ha portato a girare sia all'Italia, poi da allenatore, tra l'altro allenatore ha iniziato con un'avventura molto particolare che sicuramente dopo ci racconti, ha il grande coscenico prima europeo e adesso addirittura mondiale. A te Dario. Beh, innanzitutto, ciao Davide, sono terribilmente felice di essere qua, di rivederti come sempre. Grazie, troppo buono. E buongiorno a tutti e a quelli che ci ascolteranno. Sì, effettivamente è stata un po' una cavalcata un po' tutta, precedentemente da giocatore, come un po' tutti iniziano nelle squadre dilettanti, poi un po' di fortuna sicuramente. Bravura, bravura. Che era il contesto, andai alla Juve e poi da lì partì un po' la mia, tra virgolette, professionalità e professione di calciatore. Il grosso scoop è successivamente, perché decisi di scendere in terza categoria. A Colleretto. A Colleretto. Una squadra giovane, fresca, che aveva però, appunto, era all'inizio di quella che poi è stata una bellissima avventura che prosegue tuttora. Sì, 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 tuttora sono ancora in categoria, anzi, ora sono in prima categoria, così ci rimangono, società molto sana, quindi è durata, non è stato un fuoco di paglia. Le basi si erano costruite all'epoca, partendo dalla terza categoria, costruendo da nulla, compreso il campo, compreso il campo sportivo. e da lì nasce la mia idea, ma soprattutto la mia volontà di fare l'allenatore giocatore. Non ti nego che l'inizio è sempre un po' traumatico quando inizi a fare un qualcosa e mi ricordo che quell'estate, quando decisi di fare questa scelta, dentro di me c'era un punto di domanda, nel senso, sarò in grado, che cosa farò perché smettere di fare il calciatore solo ed esclusivamente, prendere, sì, giocando, ma prendere comunque delle responsabilità anche come allenatore. Era completamente diverso. Era un punto interrogativo, anche perché all'epoca io avevo 28 anni, quindi ero comunque nell'apice, sì, della mia, tra virgolette, carriera, ma anche in prestanza fisica e quindi allenavo anche ragazzini sì giovani, ma anche qualcuno che aveva qualche anno più di me, quindi dovevo interagire anche a livello di personalità all'interno dello spogliatoio. Detto questo, credo che dopo un mese, ma neanche, mi sono accorto che quello mi stava... Era il tuo mondo. Era il mio mondo, nel senso che mi trovavo talmente a mio agio ed era talmente bella e una sensazione positiva lo andare allo spogliatoio, al campo, che piano piano proprio mi cresceva il fatto di dire, ma forse ci sto bene qua, in questo contesto. Forse di più che non quando ero solo ed esclusivamente calciatore, perché effettivamente fare l'allenatore vieni coinvolto a 360 gradi proprio sulla... Dentro e fuori la calcia. E soprattutto nella tua passione, perché effettivamente ti devi occupare di tutto. Ecco, questo è stato l'inizio che non cambierei assolutamente, pur essendo partito da molto distante. Io poi, andando avanti, ho trovato colleghi che effettivamente sono partiti da molto più in alto. Certo. E partire dalla terza categoria piemontese in una società che non esisteva, che è nata... È molto più complicato, certo. E arrivare poi tra i professionisti è un percorso lungo, è un percorso faticoso, però eccezionalmente formativo. Dario, tu piano piano hai appunto capito che questo era il tuo mondo, però hai anche capito che bisognava fare uno step sotto il punto di vista della crescita, non solo calcistica, ma anche mentale, dell'ambiente. E anche per questo tu a un certo punto hai fatto la scelta di non allenare come hanno cercato tanti in Italia, ma di uscire dai padri confini. E di lì è iniziata poi la tua carriera effettivamente di alto livello, a livello internazionale, che ti ha portato poi appunto a abbarcare addirittura i confini dell'Europa. Raccontaci che cosa è scattato, che cosa ti ha portato a scegliere a un certo punto di dire ok, lascio l'Italia e vado ad allenare fuori. Ma allora, premesso che prima di arrivare lì c'è stato un percorso, quindi il percorso è stato quello di conseguire gli attestati quale allenatore, quindi gli step importantissimi che continuo a consigliare a tutti gli allenatori, o tutti quelli che vogliono iniziare per l'allenatore. I corsi formativi servono, le licenze servono. Certo. Perché la passione è una cosa fondamentale, ma è come guidare un'auto e essere un grossissimo pilota, ma non avere la patente. Certo. E quindi si va un po' a non trovare una continuità di lavoro, questo senz'altro. Quindi questa è la prima cosa. Quindi ho sempre allenato con i patentini, ho sempre allenato con le licenze, e questa è la prima cosa che consiglio a tutti gli allenatori. Detto questo, si è arrivato poi ad uno step dove mi arrivò un'occasione, un'opportunità di lavoro a Rimini. Quindi io decido, perché fortemente volevo fare questa esperienza, di dedicarmi solo ed esclusivamente, almeno per un anno, a fare l'allenatore. Vedere un attimino se effettivamente riuscivo, non tanto con i risultati da squadra, ma quanto io potessi crescere in quell'anno. Ed effettivamente è stato un anno formativo e di crescita mia personale. Al di là del risultato in sé come squadra, però in quell'anno dove avevo 24 ore al giorno, nel dedicarmi solo ed esclusivamente alla mia formazione come allenatore, mi permette di migliorarmi, di avere molte più nozioni, di conoscere più persone, di frequentare determinati ambienti che mi permettono poi di avere l'occasione di andare all'estero. Mi viene proposta tramite un agente di andare in Romania. E io l'apprese subito, senza pensarci. E' stato, sì, ok, mandatemi i biglietti. E io sono lì. E da lì nasce un po' questa, tra virgolette, molti mi dicono coraggio. Io credo che ci sia anche un po' di follia, ma soprattutto c'era la volontà di seguire quello che effettivamente sentivi di fare, quello che sentivi fortemente dovuto a tutto questo percorso che c'era stato. E che in quel momento lì è arrivato al posto giusto, ero io al momento giusto. Questo è stato un po' la chiave. Non ci sono altri, tra virgolette, segreti. Io volevo fare questo, comunque cercare di non avere, tra virgolette, rimpianti, e quindi proseguire su una strada che si era creata a Colleretto e che dopo 7-8 anni mi ha permesso poi di entrare tra i professionisti. Era giusto appunto cercare di fare quello step successivo per dire, ok, perfetto, questa è la carriera che voglio intraprendere, però è anche vero che nel momento in cui uno deve fare questo step, questo passaggio successivo, fa le giuste valutazioni e a volte bisogna, come dici tu, anche cercare di uscire un po' degli schemi normali e cercare qualcosa di particolare. Di lì appunto parte la tua carriera che ti porta poi successivamente ancora a fare uno step successivo e arrivare a quello che è un calcio nuovo, tra virgolette, un mondo nuovo a livello calcistico ma che stiamo imparando e impareremo poi ancora di più a breve a conoscere con i prossimi poi mondiali perché tu decidi di andare a lavorare in Medio Oriente. Sì, anche lì c'è stato, giustamente gli step sono stati la Romania, la possibilità, ecco, di andare a Coverciano, quindi di laurearmi e quindi di conseguire una licenza e una laurea professionistica, quindi con dei patentini professionistici che sono, come ti dico, anche lì è stato un altro spartiacque perché tu puoi anche essere un bravissimo allenatore ma se non hai dei requisiti per stare in certi ambienti, in certi campionati, non vieni neanche preso in considerazione. Detto questo, questo è stato uno step di nuovo importante dove mi ha permesso di avere tutte le facoltà per muovermi tranquillamente come un professionista. Di lì mi viene data la possibilità o comunque mi viene chiesto vuoi andare nel Medio Oriente? C'è questa possibilità di andare in Oman e anche lì la valuto, in quel momento lì la valutai proprio a 360 gradi e decisi poi con il mio agente di muovermi e di andare in Oman. Quindi faccio un anno in Oman nel Medio Oriente, lì mi si apre di nuovo la possibilità di andare sempre in Asia ma in Thailandia e faccio un anno e mezzo in Thailandia dove anche lì scopri nuove culture, scopri un nuovo calcio e quindi la mia, tra virgolette, carriera, ma non dico carriera, la mia esperienza, tutti noi abbiamo secondo me l'esperienza, non sono carriere, mi si allarga ancora maggiormente. Quindi ho la fortuna, perché ho la fortuna, di vedere altri calci. Quindi il calcio è sì uno sport grosso modo che ha delle regole che valgono per tutti ma non sempre, non dappertutto, lo si vive in modo uguale. Infatti ti chiedo questo, che differenza per chi non lo vive quindi lo conosce poco c'è tra quello che è il calcio che vediamo in televisione, quindi il calcio diciamo dei paesi sudamericani, europei, quindi diciamo così dove c'è il grosso del calcio, la storia del calcio sono legate a questi mondi, a questa parte del mondo. Che differenza c'è appunto tra questo e il calcio in Asia? Beh, innanzitutto è culturale e sociale. Detto questo, il calcio è in Europa. Il grosso calcio è in Europa. La grossa cultura professionale professionale è in Europa perché fin da bambini si è cresciuti con l'insegnamento della professione, quindi ti insegno il mestiere. Quindi anche la squadra più dilettante ha forgiato dei futuri campioni. Cioè tutti i futuri campioni o comunque i campioni che giocano in serie A il 90% arrivano da società dilettantistiche. Certo. In Medio Oriente, ti faccio l'ipotesi di questo, non esiste ad esempio il calcio giovanile. Non esiste, c'è ma è in poca parte. Quindi è un calcio completamente diverso. Si approccia al calcio già in età evoluta. così come a livello sociale. Nel senso porto un esempio stupidissimo ma per farvi rendere conto sei nel nel momento principale dell'allenamento ma parte il suono della moschea e ci si ferma. Ci si ferma. Suona per tre o quattro minuti ma ci si ferma. in Medio Oriente fa molto caldo. Certo. Quindi gli allenamenti vengono veramente centellinati a seconda del tramontare del sole perché effettivamente non riesce a stare a fare della performance con quelle condizioni. Non a caso i mondiali in Qatar si interranno a decenni. L'inverno. Ci sono tantissimi particolari così come mi è capitato in Thailandia di avere dei collaboratori che sparivano per una settimana e quindi mi chiedevo dove vanno dove vanno cosa fanno a turno e dovevano andare a pregare quindi erano al tempio dovevano stare a pregare e quindi va bene ci si adegua in modo in modo differente. Ecco questo ormai in occidente è difficile che possa capitare in Europa. anzi se un giocatore sparisce o un collaboratore sparisce per una settimana si chiama polizia carabinieri stiamo parlando veramente di tante altre cose detto questo ho allenato giocatori straordinari giocatori forti che molto probabilmente danno sì come si dice un'importanza al calcio ma non così esemplare pur essendo pagati e anche ben ritribuiti chiedendomi un po' delle diversità io dico sempre che allenerei sempre i serbi macedoni i croati e ci metto dentro anche i giapponesi ho avuto la fortuna di allenare gran parte di queste di queste etnie qui e sono sono giocatori beh i giapponesi sono fantastici perché veramente sono di una professionalità altissima questa dovuta proprio alla loro cultura dovuta al al forte senso di responsabilità che hanno il fatto di essere molto abituati a giocare all'interno di squadre già fin da bambini nelle scuole e quindi sono straordinari e poi ci sono tutta la zona balcanica ma della vecchia Jugoslavia i macedoni i serbi i croati non per niente hanno dei giocatori che vediamo noi in serie A fortissimi o comunque che sono quei giocatori che durante la settimana tu non quasi mai le hai nel senso sono giocatori che non si li guardi e dici ma cavoli impegnati fai qualcosa però sono un po' così un po' lesi un po' che non hanno voglia di fare però però poi sono quei giocatori che alla domenica quando c'è la partita tu sei sicuro che ti danno il 100% che loro ci sono loro ci sono e ti fanno gara ti fanno assolutamente gara ecco questo questo è un po' la particolarità che in questi anni mi è capitato abbiamo parlato prima appunto dei tuoi inizi sia da da giocatore da allenatore in canavese facciamo questo passo indietro e parliamo del territorio nel senso che il calcio canavesano purtroppo nelle ultime stagioni dico purtroppo perché massimo rispetto per tutte le società che danno veramente il massimo e si impegnano ce ne sono tante che stanno facendo sicuramente un grande lavoro però il calcio canavesano ha smesso di essere al centro dell'attenzione come è successo ad esempio agli inizi degli anni 2000 dove addirittura c'è stato un momento in cui avevamo due società professionistiche e ben quattro società che erano tra eccellenza serie D quindi veramente ad alti livelli secondo te che cosa è successo come si è involuto se c'è stata un'involuzione il calcio locale canavese e secondo te se c'è la possibilità o la necessità di fare un qualcosa per tornare a quei livelli se naturalmente è possibile perché sappiamo benissimo il periodo storico che stiamo vivendo è particolare soprattutto sotto la parte puramente economica sì credo che tu abbia un po' toccato tutti i punti negli anni 2000 c'erano due realtà molto importanti qui che erano appunto l'ivrea e il canavese addirittura l'ivrea giocò in lega in lega 1 pro quindi alle soglie della serie B fece qualcosa di veramente straordinario così come il canavese tant'è che molti giocatori passarono da ivrea che tuttora giocano o allenano faccio l'esempio di Dionisi certo e quindi è stato veramente una fucina anche c'era movimento e credo che il calcio non sia solo un movimento sportivo ma era anche un movimento territoriale quindi quando c'erano le partite lavorava un po' tutto l'indotto detto questo credo che sia molto banale dire non ci sono più soldi è un momento storico sociale e così via parlando prima con te si ragiona molte volte e molte volte avendo amici che dirigono o sono proprietari o allenano o comunque fanno parte del contesto dilettantistico della zona ci si confronta io credo che in questo momento qui l'unica possibilità che può avere il canavese è di costruire un grosso e unico polo centrale porto l'esempio del tinticino in Svizzera o si ragiona in questa maniera qui o se no sarà molto molto faticoso quindi vuol dire che le 3 4 5 6 società dove c'è un buon afflusso di ragazzini una buona partecipazione da parte dei dirigenti decidano capisco che è una cosa difficilissima perché ognuno di noi vuole divertirsi e andare al campo e non non toccargli un po' quello il meccanismo che è stato costruito ma va benissimo va benissimo ognuno è libero di pensarla come vuole ma se si vuole salire o se si vuole almeno portare non dico in serie B ma tra i professionisti una rappresentanza cannavesana è l'unica è l'unica secondo me soluzione che si possa avere è un discorso che già si era provato a imbastire una quindicina di anni fa poi sappiamo che non è andato non è riuscito ad andare in porto capisco e di conseguenza capisco ti interrompo Davide capisco che è difficile ognuno ognuno che rappresenta la propria squadra voglia restarci voglia non cedere a un compromesso secondo me è l'unica strada che si possa avere perché comunque ci sono porto esempi delle realtà importanti io ora quando quando rientro in Italia per amicizia e per stima perché effettivamente negli anni si sono rivelati una società molto molto seria su questo aspetto qui collaboro esternamente con il Vallorco per l'amicizia che ho con Gigi Pulici con Dino Ponzetto con Cesarino facendo i summer camp e stivi e collaboro con loro e loro negli anni hanno dato continuità di questo continuità e quindi si sono trovati ad avere molti ragazzi sì esatto quindi in questo momento qui quello che ho suggerito anche a loro lo stesso è Fisi o Cocco che sta facendo un buonissimo lavoro gli auguro il bene proprio per salire però o si fa si energia con altre società anche limitrofe proprio per crescere tutti o se no secondo me si diventa si va in fatica si può rimanere fino a uno step ma oltre non si può più andare certo a meno che arrivi un magnate del arriva del medio oriente esatto e allora compra la società e decide che in tre anni fa un piazza pulita però vorrebbe dire poi tutti comunque andare a inglobarsi in quella direzione lì cioè una società di riferimento ci deve stare certo e c'è stato negli anni 2000 perché mi ricordo che tanti venivano poi presi dall'ivrea o dal canavese di queste realtà locali e poi gli davano la possibilità di fare professionisti concludo per dirti questo l'ultimo l'ultimo giocatore canavesano che ha giocato in serie A è del 1978 di Gianluca Comotto in serie A e stiamo parlando con una certa continuità sicuramente quindi altri per qualche età ci sono giocatori che hanno fatto buone carriere vedo Nicco mi sembra Rolando che sta facendo bene certo sta facendo molto bene però io sto parlando di serie A di serie A lui è stato anche capitano del torino Gianluca Comotto secondo me esemplare professionista esemplare è l'ultimo canavesano che ha giocato in serie A quindi stiamo parlando di un 1978 dovevi far riflettere questa cosa c'è qualcosa che guarda nel senso il territorio è di 250 mila abitanti va bene non tutti giocano a calcio sicuramente ma qualcosa bisogna fare per cercare di uscire un po' da questo in parte generale Dario concludiamo questa chiacchierata chiedendoti naturalmente quali sono gli obiettivi che ti porrai quali saranno gli step successivi di questa tua tu hai parlato non tanto di carriera ma di esperienza questo significa che tu continui giustamente come dicevi prima a cercare di crescere di maturare perché come nella vita anche il calcio non si finisce mai di imparare ogni giorno si impara qualcosa di nuovo e tu lo stai dimostrando perché ogni giorno cerchi sempre di porti nella maniera migliore anche nei confronti di tutte quelle che possono essere le novità del calcio perché il calcio è vero che ormai ha una storia pluricentenaria però effettivamente è una disciplina che è cambiata tanto e sta maturando e sta appunto arrivando sempre più a livelli psicofisici anche di di un certo livello che cosa ti aspetta approssimamente ma si hai detto hai detto benissimo tu no nel senso che il calcio è veramente evolutivo evolutivo perché è fatto da uomini e quindi il 2 più 2 non fa mai 4 quindi tutti i giorni bisogna essere pronti a capire di risolvere la situazione se ti va bene hai la situazione o il problema del giorno prima se no ce n'è qualcuno di nuovo quindi io ho il consiglio che posso dare a gran parte di chi lavora in quel mondo lì non è non è non è matematico perché è di uomini io in questo momento qui ho un background o un curriculum non italiano sicuramente è più sull'internazionale e soprattutto su quel mondo lì che è il mondo arabo del medio oriente e asiatico quindi c'è questa questa grossa questa grossa finestra aperta in quella direzione tant'è che i club che si sono un attimino fatti avanti per capire il da farsi sono di quella direzione lì ho avuto la proposta di un grosso club europeo però su un settore giovanile quindi su un under 19 che sto valutando onestamente non mi dispiacerebbe rientrare in Europa e anche rientrare su un settore giovanile di altissimo livello che sto valutando anche perché un under 19 di un club importante europeo non italiano ma europeo non mi dispiacerebbe proprio beh basta vedere quello che sta facendo adesso il Barcellone è un periodo di forte crisi a livello di risultati di gioco di tutto quello che è successo ha deciso di puntare fortemente sui giovani della propria cantera ancora già la faceva prima ma quest'anno ho visto scendere in campo dei ragazzi praticamente nomi sconosciuti che però stanno vendendo cara alla pelle è una grande opportunità e naturalmente per arrivare a quei livelli c'è qualcuno che deve formare di prepararli questo è un altro discorso che se vuoi possiamo aprirlo anche un altro un altro momento si parla molto di giovani l'Italia non li lanciano l'Italia non li lancia io per esperienza l'Italia non li lancia perché non sono pronti dici niente non è che l'Italia se ha un giovane bravo 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 non te lo fa giocare non te lo fa giocare perché non è pronto ma perché non è pronto il giovane italiano non è pronto perché vai a prendere il giovane dell'Ajax vai a prendere il giovane dell'Underlecht vai a prendere il giovane del North Island perché è un'altra cultura quella olandese belga dei paesi del nord perché a 14 anni sono già tutti fuori di casa a 18 hanno già un'esperienza anche di responsabilità all'interno di uno spogliatoio anche di gestione personale che non ha un diciottenne italiano questo è è una cosa molto che fa riflettere io sento continuamente in Italia si vanno a prendere i giovani all'estero ma si vanno a prendere ma non perché non così si vanno a prendere perché sono più bravi perché un primavera ora come ora molto probabilmente non è pronto per quei palcoscenici deve farsi almeno la famosa serie C poi se è bravo va in serie B poi se è bravo torna in Italia Pessino è l'esempio però Pessino è arrivato tramite un percorso dico Pessino ma per dire io non credo che sia sempre colpa delle società o degli allenatori che non si fidano a far giocare i giochi i giovani giocano i giovani bravi giocano ma i giovani devono essere pronti non solo sul campo io trovo i giovani italiani che non siano pronti e non solo nel calcio ma in tutti i lavori perché 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 in Olanda si ragiona in modo diverso in Svezia a 16 anni sei fuori di casa o quasi in Italia a 30 anni devi ancora la domenica magari stare con i tuoi ma ci sta è cultura la cultura quindi noi siamo questa società e quindi rispecchia anche poi sul calcio bene Dario come al solito ti ringrazio perché con te si parte parlando di calcio ma poi ci si allarga appunto una questione assolutamente non è perdersi ma si riesce ad arrivare a toccare punti completamente diversi appunto quelli culturali filosofici anche e questo credo che sia una delle tue caratteristiche principali quello che ti ha fatto diventare prima il giocatore poi l'allenatore ma soprattutto l'uomo che sei ovvero sempre uno che dice chiaro e tondo quello che pensa e credo che in mondo dello sport in generale ma nella vita di tutti i giorni credo che sia fondamentale quindi di questo grazie di averci di averci fatto visita di aver condiviso con noi questo momento è stato un piacere grazie a tutti voi ok wow grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti